Erika Pulcini con Steve Branco, categoria Open, Soto Warriors 2012 Trancere Posto? Posto? 5, 5 Segno, 5 Due a mezzo e due a mezzo, si vede? Sì 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 05 che? 05 che? 05 che? 05 5 05 05 05 ok 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 Grazie. 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 Oh, ma è l'altro. Sai peccato? Eh? Sai peccato? A quanto non vedevi? Due. 45. Eh, ma comunque un minuto di riposo è... Riposati. Ma che cosa? Ma che cosa è silkata? Ora, guarda... Cianto? Quattro... Guarda. Guarda! 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 Guarda l'aria per passare! Guarda! Sì. 9, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Grazie a tutti. 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 Dai, non mollare. Tutto, tutto. Dai, mo, dai, mo. Dai, che ho finito. Vai, dai tutto. Vai. Vai, vai. 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 Grazie a tutti.